Sogni, speranze, sacrificio e passione, ma anche tanto divertimento. Lo sport da sempre rappresenta attività di inclusione e motivo di benessere psicofisico per gli atleti, a cui possiamo aggiungere crescita personale se parliamo di settore giovanile. 180 ragazzini dalla categoria primi calci, passando per la Juniors, e 50 anni di attività da festeggiare nel 2022. Questi i numeri della SD Avanti Altamura, una delle tante scuole calcio del territorio, affiliata al progetto SSC Bari Generation. Dopo sette anni di affiliazione a livello nazionale con il Milan, i dirigenti della società altamurana non hanno resistito alla forza e alla solidità del progetto biancorosso di valorizzazione del territorio e dei giovani che lo popolano. Noi siamo presenti su tutto il territorio pugliese, siamo presenti nella Bat, nel Barese e addirittura nel Brindisino e nel Tarantino. Quindi questo la dice lunga sulla credibilità del nostro progetto. Oggi siamo qua a Altamura, è la seconda visita annuale. Fa parte del percorso che noi offriamo a tutte le affiliate, che è un percorso di formazione e non solo. La nostra proposta è variegata. Partiamo dal supporto tecnico, al supporto organizzativo, ai tornei, allo scouting. Insomma c'è tanto da offrire alle affiliate e noi lo facciamo con tanta disponibilità ed entusiasmo. La nostra affiliazione è nata quest'anno, dopo un'attenta valutazione con il mio direttivo e con il mio staff. Era necessario tornare sul territorio. Noi veniamo da sette anni di affiliazione con una squadra blasonatissima a livello internazionale, parlo del Milan. Però avevamo necessità di ritornare alle nostre radici, di ritornare al nostro territorio e anche perché c'è necessità di fare squadra. Perché la Bari, come la chiamo io, è la squadra di tutti i pugliesi del sud e quindi dobbiamo cercare di crescere insieme. Comunque è sempre una bella cosa, fortemente voluta dal nostro presidente. Come prima ha accennato, noi dopo sette anni con il Milan, diciamo che era più difficile magari con una squadra del nord, anche se attirava il simbolo del Milan, attirava i bambini. Comunque è un bel progetto, a noi ci è piaciuto subito il Bari Generation. Cerchiamo di dargli il contributo delle accademie del Bari, nel senso che cominciamo a trasmettere il lavoro di professionisti, della metodologia dei professionisti in questi ragazzini, cercando sempre di dargli un sogno, perché come noi tutti abbiamo giocato a certi livelli, veniamo da questi campetti nella speranza che possano arrivare ai nostri livelli e cercando di insegnargli tutte le basi di squadre, della categoria, ai sordenti giovanissimi, allievi, dove loro possono migliorare e cercare di avere una metodologia di lavoro da professionista. È sicuramente fondamentale, questo è il compito che hanno sicuramente gli allenatori, quello di far crescere dei giocatori, ma soprattutto degli uomini, che sappiano rispettare gli avversari e soprattutto gli arbitri, e quindi divertirsi, ma con il massimo rispetto, quindi diventando uomini soprattutto. Che ruolo fai? Esterno e sinistro. C'è un calciatore del Bari, per esempio, che a te piace particolarmente, a cui ti ispiri? Ante Noci. Senti, com'è nata la passione per il calcio? Da mio padre. Perché? Che faceva tuo padre? Faceva la calcio. Io ho visto la prima volta e mi piaceva. Lui è il nostro ciccio caputti, come l'avevo detto io prima. Guardate qui, non c'è trucco, non c'è inganno, è vero? Però non vuole farlo attaccando, lui è un difensore, è vero Francesco? Sì. E la tua squadra del cuore, chiaramente, parti dal Bari e poi arrivi in alto, giusto? La cittadina barese che ha dato i Natali all'ex calciatore bianco-rosso, Francesco Caputo, partito da questi campi e arrivato anche a vestire la maglia azzurra, però non vuole fermarsi con l'amministrazione comunale pronta ad ulteriori investimenti per gli impianti sportivi. E' chiaro che, diciamo, il comune di Altamura ha un'attenzione particolare allo sport ed in particolare, diciamo, alle strutture dello sport, perché è quello il veicolo per il quale poi, chiaramente, tutti coloro i quali vogliono fare sport lo potrebbero fare. Tenendo presente, peraltro, che voglio ricordare a qualcuno, in particolare a Gerardo, che abbiamo, dopo 50 anni, ripreso le fila del Cagnazzi, perché noi abbiamo un altro campo Cagnazzi, un campo che sta al centro e che, diciamo, era quasi distrutto e, diciamo, da, penso, maggio, giugno, luglio, che le devo dire, lo rifacciamo a nuovo con un'erba sintetica.